Sono 900.000 le dosi di vaccino anti-influenzale che la regione toscana ha acquistato e distribuito alle ASL per la campagna di vaccinazione presentata dall'assessora regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi. Il periodo migliore per vaccinarsi contro l'influenza è l'autunno, da metà ottobre a fine dicembre. L'appello a vaccinarsi, rinnovato anche dai rappresentanti della medicina generale, è rivolto a tutti e i primi destinatari sono le persone dai 65 anni in su quelle con patologie che possono essere complicate dall'influenza e gli operatori sanitari. Le persone possono con grande semplicità e facilità in modo totalmente gratuito recarsi dal proprio medico di medicina generale e vaccinarsi contro l'influenza. Insieme alla vaccinazione anti-influenzale si offre la vaccinazione anti-pneumococcica e insieme a questa verrà offerta anche la possibilità di un trattamento con vitamina D. Il piano di prevenzione vaccinale da quest'anno prevede anche la vaccinazione anti-herpes zoster. L'obiettivo è quello di raggiungere la soglia minima del 75% di copertura della popolazione dopo il picco minimo del 50,6% del 2014-2015 e la leggera risalita al 55,2% della scorsa stagione perché l'influenza non va presa sotto gamba. Non è una malattia così secondaria come possiamo immaginare ma che può portare anche conseguenze molto gravi, infatti abbiamo avuto anche l'anno scorso molti ricoveri da conseguenze dell'influenza e quasi la metà delle persone non erano vaccinate. Saccardi ha poi rinnovato l'appello a vaccinarsi anche contro il meningococco C e ha ricordato come dopo l'avvio della campagna straordinaria di vaccinazione attiva fino al prossimo 31 dicembre i casi di meningite siano diminuiti in modo sensibile.